Buona giornata. Sondaggio dell'Istituto Demopolis sulle priorità degli italiani per il governo del Paese. Vediamo quali sono state le loro risposte. L'81% degli intervistati pensa che la priorità assoluta sia lavoro e occupazione. Al secondo posto, per il 68% degli italiani, riduzione della pressione fiscale. Al terzo posto, per il 66% degli italiani, misure per il rilancio dell'economia. Al quarto posto, per il 65% degli italiani, efficienza della sanità pubblica. Al quinto posto, per il 60% degli italiani, sicurezza e contrasto della criminalità. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuito. Nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube e potete assolutamente condividerli con chiunque voi vogliate. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.